Ciao belli, ci siamo! Oggi è arrivato il grande giorno, finalmente darò vita alla mia nuova postazione video. Allora, ho tutto perché ho qui la colla, pennelli, quindi dovrei sciogliere la colla in un secchio, ma ho anche quello, passare la carta, no, passare la colla e poi attaccare la carta. Insomma, adesso vedrete tutto, vediamo che cosa combino. Cioè, metto gli occhiali così non incollo le dita e, insomma, meglio così. Questa è la carta da parati. Bene, ho qui le mie strisce di carta da parati, adesso non mi resta che preparare la colla e incollare tutto. Bene, da questo momento in poi inizio a miscelare. Ho qui l'acqua, ho qui la colla. Devo fare un po' di passaggi, nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale per sapere come andrà a finire. Niente, spero che la telecamera non si spenga prima della fine di tutto, perché adesso ho sui guanti, inizio a maneggiare la colla, quindi la videocamera non la tocco più. Ho preso anche un bastone per mescolare. Allora, mescolare per 30 secondi velocemente, è fatto. Adesso deve riposare 3 minuti, poi devo mescolare ancora velocemente e poi la colla finalmente è pronta. Allora, proviamo il primo tentativo. Primo tentativo, miseramente fallito. Attenzione, adesso sembra molto meglio. Forse prima non aveva riposato abbastanza. Funziona! Funziona! Ma serve anche una spatola. Che io possiedo. Ok, secondo. Secondo rotolo. si prosegue. Si prosegue. Seguire. Segue. Oggi, ora sono tutti i nostri amicoluri. Ciccola. Oggi. Oggi comeنola. Sì. Allora belli, come vedete questo è il mio nuovo sfondo, sì lo so, non è ancora completo, manca un peccettino lì e un peccettino lì, però questo video è work in progress, quindi vi aspetto su questo canale, iscrivetevi perché uscirà a breve il video definitivo sulla mia nuova postazione. Io vado avanti, voi iscrivetevi, ciao belli, state bene, fatemi sapere che cosa ve ne sembra, ciao belli!